Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodico Il 110 e guardate in descrizione c'è la mappa aggiornata Bene mi sono portato un po' avanti ragazzi Ho fatto due crafting nuove, due tre mi sembra Ho fatto questo qui che ci fanno le energy crystal E tre pezzi d'oro ci fanno i gold cable E i gold cable con i rubber ci fanno i gold cable Quelli là per due Poi tutto questo per fare le MFE perché si crafta in questo modo Vi faccio vedere Perfetto sapete che le energy crystal non sono accumulabili Per cui ho fatto una nuova crafting qui Per fare le MFE ho messo la chest e ora devo finire Per cui gli mettiamo questo qui Facciamo import Togliamo i quattro energy crystal e li mettiamo di qua Tre e quattro Perfetto Poi andiamo qui e li mettiamo questo qua Voilà Il satellite E ci rimane il tre libero Per cui qui li mettiamo il tre Fine Va beh è uguale Fa niente Perfetto L'è tutto a posto No non è a posto perché Perché non è a posto Perché mi fa la riga rossa Mi fa la riga rossa Forse ho capito il motivo Forse ho capito il motivo Non vorrei sia una stronzata però Non vorrei che La chest è bloccata Proviamo a vedere No non c'entra niente Come mai mi fa la riga rossa lì Porca logia Porca logia Porca logia Allora questo è il due E' perfetto Questo è l'uno Ed è perfetto Questo è il tre E fa così Perché? Perché? 1,2,3,4 Ok 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 Adesso funziona Guardate Perfetto Proviamo ad ordinare magari un Un MFE Vediamo che le succede MFE Dove cavolo le? Qua Voilà Manca un rubber Porca logia Vediamo se magari abbiamo qualcosa Con le bistecche Abbiamo i rubber Porca trota Ok ce li abbiamo Abbiamo i rubber Andiamo qui a cuocere Voilà Voilà No Voilà Perfetto Aspettiamo che cuoce il rubber Intanto 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 Avete visto intanto Che casino Bene 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 Intanto Vorrei andare a vedere il nonno Perché sta cagando di brutto Ma di brut Brut Le sta cagando Demma a vedere Oh No no Lei stai crescendo In fretta Niente Solo panini 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 Sto nonno è tirchio L'altro ci droppava cose strane Oh Ha cagato ancora Niente Non ha cagato niente C'è ora la diarrea oggi ragazzi Allora Proviamo adesso Ad ordinare l'MFE MFE Tanket Successful Vediamo a vedere che succede Et voilà E' veramente un casaino Beh neanche più di tanto Neanche più di tanto Ok Già partito E' già partito Vediamo un po' MFE MFE Ecco itelo qui Perfetto Mangiamo qualche bistecca Intanto mi servono i cavi 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 Mi servono i cavi Quelli di diamante Che non mi ricordo più come si fanno Prendiamo del diamante Prendiamo due diamanti Ah ok Mi sono ricordato Con Il silver E del vetro Vediamo un po' Allora com'era Erano due diamanti Il silver E tutto vetro Giusto Si Perfetto E dai Ok Andiamo nella stanzica di là No che stanzica di là Dobbiamo andare là sopra Dobbiamo andare là sopra Vi farei in questo modo A dirla tutta Mi sa che è un po' meglio Allora Scendiamo su Uh Ok L'MFE Io lo metterei addirittura qui O magari anche qua Perché no Perché no Perché no Mmm Facciamo una bella cosa Facciamo una bella cosa In poche parole Dobbiamo andare su Dobbiamo andare su Allora Iniziamo ad andare su Un attimo Che poi perché metterli qua E non metterli qua Sono un pirretta Perché devo mettere le forze in alto Quando li posso mettere qui Non ci avevo pensato Bene Le mettiamo qua magari I cosi I pannelli solari Che ne dicete Facciamo magari una cosa del genere Allora Facciamo così Perfetto Ne mettiamo Uno Qua Ole Poi Ne mettiamo Ne mettiamo Allora Uno qua E uno qua Perfetto Perfetto Qua possiamo rompere Qua possiamo rompere Allora Uno sotto Uno lì E uno qua Che cazzo sto combinando Non lo so Non lo so Vabbè Facciamo così E poi li facciamo andare sotto Perfetto Poi mettiamo gli altri Allora Scendiamo su Ok Ho entrato Bene 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 Pirla Rimani qua Allora Adesso Il buco è lì Il buco è lì E io farei addirittura Così Farei proprio così Vediamo un po' Se me lo mette così Perfetto Funziona Funziona Guardate Già tre pannelli solari Diciamo che fanno Abbastanza corrente Diciamo abbastanza Dai Pensando che sono Quelli semplici Quelli minimi Perfetto E qua facciamo così Via Pirla Via Pirla E ti togli Oh Andiamo un po' Ok Abbiamo questa E abbiamo questa Perfetto Abbiamo potenziato Un pochettino Diciamo L'ammala tattico qui Ok Possiamo andare avanti Ok Io sento rumore di Fantasmi Bene 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 Anche questo è fatto Ora 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 Vorrei fare altre cose Però vediamo che fare Prima di tutto Raccogliamo Dell'energia se c'è Perfetto Possiamo mettere via Questa roba qui Questo magari poi Ce lo carichiamo Ce lo porteremo in giro Poi abbiamo Del copper Abbiamo questo qua Via Questi via E questi via Perfetto Ok Qui abbiamo Un diamante Ora andiamo a vedere Di là Lasciamo un po' Di roba Lasciamo il diamante La gravel La sabbia E basta Ah il carbone E mettiamo qua Le bistecche Mi mancano Delle torce Delle torce Delle torce Abbiamo il carbone Carcicoal Coal Perfetto Facciamo un po' Di torce Perché sono a secco No Ok Perfetto Abbiamo tutto Ora 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 Dicevo Si volevo farmi Le scarpe Quelle che saltano In alto Andiamo un po' Se riusciamo Perché non mi ricordo Più il crafting Allora Facciamo una bella cosa Prendiamo un borsetto a gialla Libro Voilà E vediamo un po' Che c'è qua Allora Dobbiamo cercare Le scarpe Le scarpe Non mi ricordo più Dove sono Ah Eccole qua Però dobbiamo fare Quelle verdi Come si fanno Le scarpe verdi Allora Ma per caso c'era Vediamo un attimo Vediamo un po' Se c'è il crafting Non mi ricordo più ragazzi Le avevo fatte Porca logia Non è che dici Non le avevo fatte Allora Scarpe 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 Eccole qua Per fare le scarpe verdi Perfetto Un cristallo verde Una piuma E Quelle di pelle Allora Un cristallo verde Una piuma E le scarpe di pelle Perfetto Perfetto Allora E dai Allora Una piuma Che l'abbiamo Poi Dobbiamo fare Le scarpe Di pelle Per cui Cinque pezzi di pelle Dovremmo averle Da qualche parte Echitele chi No Sono quattro pezzi di pelle E un cristallo verde Un cristallo verde Un cristallo verde Echitele chi No Quattro Vabbè fa niente Non le fa nada Dove vanno Dove vanno Dove vanno Dove vanno Nel taumatic Infuser Ok Andiamo nell'infuser Ok Allora Cristallo verde Una piuma E Pirletta Devo fare le scarpe Ok Vediamo un po' Se funziona Ah Il cristallo verde Intanto i cristalli Non mi servono più Voilà Però abbiamo un bel po' Di cristalli ragazzi A proposito di ricristalli Andiamo a vedere giù Che le successe Quello blu Non è cresciuto ancora Però sono tre rossi Guardate Dobbiamo trovare le pergamene Dai Ancora uno col pet Mi accendo una caramella Dai dai Oh Scarpe verdi Ora dobbiamo fare Invece quelle gialle Che si fa con il cristallo giallo E una piuma Sempre Per cui cristallo giallo E una piuma Ma abbiamo anche il crafting Di quelle rosse No Non abbiamo trovato ancora la pergamena Infatti Non mi fa vedere il crafting Allora una piuma Allora una piuma Una piuma E qui te la chi Dai dai Dammi Corri Corri Carcia Ficco Allora Andiamo qua Mettiamo la piuma Cristallo giallo E le scarpe Qua come le si è messo Ce n'è ancora un po' Perfetto Di questi ne abbiamo un bel po' 28 ragazzi Dobbiamo fare più presto Quel macchinario lì Ma se no sblocchiamo le pergamene Doviamo andare in giro A cercare i cosi della magia Che ne dicete Però devo anche cercare La pergamena per le chiavi Ragazzi Se sapete come si trova La pergamena per le chiavi Perché non mi ricordo Se me lo dite nei commenti Mi fate un grandissimo favore Cosa bisogna ricercare Perché non vorrei Che si fosse ricercare Proprio la pergamena Della chiave No O la chiave Quella minima Comunque le chiavi Sono queste qua Vedete Noi abbiamo Il crafting di questo Ma non abbiamo Il crafting della chiave ufficiale Perché non so Come si trova Dai ti muovi Intanto vediamo Se possiamo fare Qualche pergamena Possiamo fare La pergamena di Popopopo Nada Possiamo fare La pergamena di nada Che poi Queste spade Io non le voglio Non le voglio Un po' Che succede Quanto valgono 18 E se ne metto 3 48 Tanto la perderò Molto più Che sicuro Azzo Azzo Ne abbiamo Una viola Ne abbiamo Una viola Ma non abbiamo Niente di valore Abbiamo Una void chest Questo qua Vediamo un po' Questo quanto vale Ma vediamo Tutti Che me ne fotte A me Allora Questo qui vale 18 Come gli altri La bussola vale 19 La void chest Vale 29 Per cui vi metterei La void chest La bussola E la pergamena Viola Sperando di non perdere Un 42 persa Al 100% Stanche Te lo sapevo Lo sapevo Mi Allora Facciamo così Così E così Poi Questa la teniamo Questa la bruciamo Ok Solo due Facciamo così E così Vediamo un po' Che esce Altre due rosse Niente Perse Vabbè Dobbiamo andare a cercare Un po' di materiali Scarpette gialle Le cambiamo Con queste qua Queste le mettiamo via Per chi non si ricorda Cosa fanno le scarpette Vedete Ci fanno correre Molto più veloce E saltano In alto Di brutto Maton Mia E poi I gradini di uno Vedete che Non c'è bisogno di saltare Perché gli sale da solo Voila Madonna Mi stanno sparando Via via Andiamo A casa Anzi Prima di andare a casa Vorrei fare una cosa Perché Qua devo mettere il coso a terra Anzi lo facciamo su No perché poi esce Pirletta Ah devo chiudere la porta Il gun Meno male che sono venuto qui Allora Ok Allora devo caricare Il butt pack Perché lo sto finendo Carichiamo il butt pack Intanto qua mettiamo a caricare Mmm Si è scaricato Si è scaricato Eh dai Allora Mentre carichiamo il butt pack Vi ricordo ragazzi Di Commentare la domanda Che vi ho fatto Che non mi ricordo più Qual era Ah si Come si ritrova Come si ricerca Questa chiave Nelle pregamene Questo è un favore Grosso Che mi fate Se no me lo andrò a cercare Io Nessun problema E Ricordatevi di scaricare La mappa aggiornata Nel Descrizione Da Luke è tutto E anche da Pirla Maialino Piccolino Piccolino Ciao a tutti